L'Italia è protagonista di un'iniziativa per cambiare l'Europa, per superare le politiche di austerità che l'Europa hanno messo in crisi e di questo anche la sinistra europea deve farsi carico. Noi lo stiamo facendo, guidando un processo di innovazione nei partiti della sinistra europea. Spesso abbiamo registrato qualche timidezza, ma mi sembra che per fortuna la direzione del vento sta cambiando.